Io ho sempre sentito il bisogno di avere uno scopo nella vita. E non credo che uno possa dedicarsi solo a se stesso, al proprio benessere. Secondo me uno deve cercare di avvicinarsi alle altre persone. La prima volta che la vidi fu all'ufficio della campagna elettorale per Palantyne, a Broadway. Aveva un vestito tutto bianco. E mi apparì come un angelo, in mezzo a tutto quel sozzume. E' sola, ma loro non osano neanche sfiorarla. Sì, dunque...